Scarica abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Sono i reati contestati a vario titolo a quattro aziende operanti nel settore della metallurgica pesante e dell'attività a conservire tra striano, pagani e scafati dai carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale di Napoli. Il sequestro preventivo delle aziende, secondo quanto ritenuto dai due giudici delle indagini preliminari di Noceano Inferiore e Torre Annunziata, si sarebbe in particolare reso necessario per impedire la protrazione dei reati accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi e per evitare l'ulteriore compromissione dell'ambiente circostante, come scritto in una nota firmata congiuntamente dai procuratori di Noceano Inferiore Antonio Centore e Torre Annunziata Nunzo Fragliasso. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Autore dei sottotitoli a cura di QTSS